È il momento di uscire dagli schemi, non essere più seri e impostati. Perché partecipare a Joymotion? Per diventare professionisti della risata. E questo grazie all'Evisa che ci ha regalato un sorriso a tutti noi. Venite, partecipate e diventate istruttori Joymotion perché il mondo ha bisogno di ridere. Il mondo ha bisogno di voi. Venite!